Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video sul canale. Siamo tornati qua per andare a fare una preview sulla partita tra Novak Djokovic e Rafaell. Chiedo perdono. Sulla partita tra Novak Djokovic e Jannik Sinder. Allora, i due si sono incontrati una volta nel loro carri... Una volta. Montegar 2021. Djokovic. Allora. Riuscì a battere Sinder in due set 6462. Però terra e erba sono due superficie completamente diverse. Vi dico una cosa. Secondo me... Diciamo che... Sinder ha fatto la maggior parte delle sue cose sul cemento e sull'erba. E sulla terra. Quindi sfidarsi sull'erba probabilmente è peggio. E il miglior Djokovic negli ultimi anni, ragazzi, l'abbiamo visto sull'erba. Sui prati di Wimbledon dove ha vinto 4-3 Wimbledon. Abbiamo visto il miglior Nole. L'abbiamo visto. E secondo me... Secondo me... Secondo me sfidarsi sull'erba aiuta Djokovic. Sarebbe più... Innanzitutto perché... Giocare in un grande slam. Cioè battere Djokovic-Nadal, in questo caso Djokovic, in un grande slam, quasi impossibile. Nel senso... Ci sono rari casi in cui vengono battuti. E quindi questa partita diciamo che Sinder parte già sconfitto. Secondo me Sinder non deve pensare all'avversario che ha di fronte innanzitutto. Perché è inutile. Perché tanto sai che hai il più forte giocatore su erba degli ultimi 5 anni. Anzi 10. Sai che hai il numero 3 del mondo. Il numero 1 del seeding. Ti metti già con i presupposti a pensare tutto questo. No, devi pensare che hai un avversario. Devi provare a fare il tuo gioco il meglio possibile. E poi quello che succede, succede. Cioè tanto se perdi da Djokovic non è che gli possiamo andare a dire che... Gli possiamo andare a imputare le colpe. Ho perso conto più forte. Non è che gli si può dire molto. Poi sono 3 su 5 ancora peggio. Perché l'abbiamo visto anche con Varitoven. Io da Varitoven avevo detto o vinceva Djokovic in 4. O vinceva Varitoven in 5. Perché mi aspettavo potesse succedere una cosa leggendaria. Varitoven il gioco sia al 100% per giocare semi pari con Djokovic su erba. Ho dimostrato di averlo. Per carità. Però non ha resistito. È durato un set. Quello è il problema. Adesso Sinner è più abituato a giocare 3 su 5. Perché non so quanti slam abbia giocato in carriera. Ma siamo già un numero più o meno alto. Perché non so. Nel 2020 non mi ricordo che slam abbia giocato. Però ha giocato Roland Garros. Ha giocato 7-8 slam. Li ha già giocati 7-8 partecipazioni. È andato al quinto svariate volte. Quindi in resistenza fisica ci dovrebbe essere a differenza di Varitoven. Secondo me cosa serve per battere Djokovic? Allora non può servire il 45% di prime palle in campo. Come ha fatto in alcuni frangenti della partita contro Alcaraz. Se serve il 45% di prime in campo Djokovic fa 2 break su 3. E forse è anche una cosa ottimistica dire questo. Per vincere Sinner secondo me deve servire un 70-75% di prime. Deve capire che non deve servire per forza 210 km orari. Può anche servire a 180-185. Nel range dei 180-190. Se non riesci a metterle tutte a 200 all'ora. Va bene, le fai più lavorate, fai magari più slice, dai più effetto. Servizio al corpo pure potrebbe essere un'idea. Però con Djokovic devi servire il 70-75% di prime in campo. Se vuoi avere qualche speranza. E quello è la prima cosa. Perché se serve almeno del 70-75% di prime Sinner perde sicuramente. Djokovic non è Alcaraz, è molto più forte. Soprattutto su Erba. Djokovic, quando affronti Djokovic e Nadal, tu sai che loro non sbaglieranno quasi niente. Djokovic non è come Alcaraz, che per dire fa 45 ore non forzate a partita. Djokovic la risposta non è che tira un sasso. Djokovic te la fa profonda tra i piedi, tutto qui, o te la fa anche angolata. E insomma è questo quello che è. Non è che non si metta a sparare i missili a sbagliare, non cade in questo tranello. Quindi o metti le prime contro Djokovic o è molto complesso. Forzare la seconda potrebbe essere un'idea. Però non puoi nemmeno commettere 10 o più doppi falli. Quindi secondo me la seconda va bene per i 160 ai 170. Su per giù quella veluco in range va bene. Però devi dare slice da destra, magari in kick, anche se non funziona bene il kick su Erba. Però non lo so qualche effetto. Devi sicuramente darlo, devi variare molto. Devi giocare qualche volta al servizio esterno, qualche volta a quello centrale, qualche volta al corpo. Qualche volta più profondo, qualche volta meno profondo. Bisogna variare al servizio. Poi in risposta dipende anche da come servire a Nole. Perché Djokovic quest'anno dei set a vuoto li ha fatto. Cioè nel senso, se vi ricordate il quarto di finale contro Nadal. Djokovic nel 2-7 era stato pregato tre volte. Ok che su terra è una superficie completamente diversa. E Nadal è per distacco il giocatore più forte del mondo e della storia su terra. Ok. Però comunque qualche volta, qualche problema al servizio ce l'ho avuto. Eppure nella partita contro Varrido. Quindi deve essere bravi risposte come è stato con Alkraz. E deve esamere un 75% di prime. Queste sono le due cose essenziali. Prime non per forza 200 all'ora, vanno bene anche a 180-185. Ma basta che entrino. Perché se no senza prime contro gioco ci si fa impossibile. Si fa che perché se tu serve il 45% di prime con gioco ci devi vincere il 6-2. Tutto qui. Molto facile. Come vedo la partita? Io ragazzi la partita la vedo non in salita ma di più. Mi sembra come scalare il monte Everest. Devi scalare un monte che devi scalare, devi vincere contro il giocatore più forte al mondo su Erba. E non è facile. Non è facile innanzitutto per l'esperienza perché è un genio tattico. Studia gli avversari bene. Quindi cosa vi dico io? Vi ho detto le mie chiavi e a chi? Sinner, vincere un set sarebbe un buon risultato. Perché anche se non ne vincesse uno non sarebbe un problema. Per il semplice fatto che Sinner arrivava in questo torneo avendo perso tutte le sue partite su Erba e adesso è arrivato ai quarti di finale a Wimbledon battendo il fenomeno al Craz. Che poi non è un fenomeno ma tutti, è il fenomeno, quello, quell'altro, ok. Quindi tutto qui. Secondo me Sinner può togliergli un set però non ha repertorio per batterlo. Tutto qui. O Djokovic gioca una partita di basso livello o secondo me Sinner non può vincerla. 80-20 le possibilità in favore del Serbo e forse anche ottimistica. 80-20 il prezzo. Il semplice fatto che Djokovic sui prati secondo me quest'anno se ci sta, se vi devo dire secondo me chi può battere Djokovic dico solo Natale non sarebbe il favorito. Solo Natale secondo me può batterlo. Tutti gli altri no. Poi ovviamente succedono anche cose clamorose. però non è facile contro Djokovic. Io diciamo che voglio dare fiducia a Sinner e dico che vince Djokovic con 4-7. Ma la cosa più probabile è che vinca in tale purtroppo per noi. Djokovic per trovare delle serie difficoltà dovrà aspettare potenzialmente Natale in finale. Quella sarebbe la finale galattica che tutti vorremmo a livello di spettacolo. Io ci vorrei Sinner ma io vorrei che vincesse Natale perché uno perché secondo me se lo merita ma quello è un altro discorso. Quindi vi dico chiavi della partita. Sinner deve servire il 70-75% di prime anche non al massimo alla massima potenza. Le seconde può lavorarle molto profonde magari delle volte. e invece un'altra e poi basta. E poi perché sennò ti fai breccare sempre da Djokovic. Queste sono le chiavi della partita. Iscrivetevi assolutamente se volete altri video così. Io avevo in mente di fare anche dei video in inglese perché magari potrei prendere persone da tutto il mondo. Sotto la preview della finale di Wimbledon che non sappiamo quale sarà ovviamente ancora. Noi ci vediamo alla prossima un nuovo video. Da me è tutto. Vi ringrazio infinitamente per la visione. Iscrivetevi. Dobbiamo arrivare 100 iscritti entro il 13 luglio, entro il 12 luglio fino in Wimbledon. Lasciate like, commentate. Da me è tutto. Ci vediamo alla prossima un nuovo video. Ah non dimenticate di condividere da me è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.